Un pugno di mosche. E' ciò che ottiene, ancora una volta, Bartoccini-Fortinfissi-Perugia, che cade anche nella settima giornata del campionato di A1 femminile di volley, nello scontro salvezza del Palagnelli contro Zanetti-Bergamo per 3-1. E' il sesto KO in sette gare per le magliette nere, ma probabilmente la sconfitta più pesante di quest'inizio di campionato, perché le bergamasche sorpassano il team perugino, ora penultimo da solo, sempre a quota 3 punti. Il primo set parte con le due squadre, che si studiano ed avanzano punto a punto fino al 5 pari, poi Bergamo scatta in avanti sul 10-7, che diviene 13-8. Loda e Lanier tambuleggiano e Bergamo vola sul 21-13, chiudendo sul 25-17. Nel secondo set Bergamo scava subito il solco sul 10-4, che diviene 17-12. Bartoccini prova a reagire, grazie ai primi tempi di Colas e Ortolani, arrivando al 21-19 sul meno 2. Le padrone di casa trovano nuova linfa ed ottengono il set con le marcature di Loda prima e Lanier poi, che mette a terra la palla del 25-20. L'avvio di terzo set mostra una Bartoccini forte in fissa di Perugia più determinata, con Colas, Avelkova ed Ortolani subito a punto. Bergamo è doppiata sul 6-12. Le perugine amministrano il vantaggio di 6 punti con i contributi di Ortolani, Colas, Carcasses ed Avelkova. Le Lombarde tentano il tutto per tutto, cambiando la diagonale. Ortolani e Carcasses però vigilano attente sul risultato. Proprio quest'ultima sul finale trova Leis, che manda il cambio campo sul 19-25. Il quarto set si avvia con le squadre subito determinate. Da questo scaturisce un punto a punto che prosegue fino all'otto pari. Poi Bartoccini forte in fissa si porta sul 9-12. Le Bergamasche però non demordono e raggiungono la parità a quota 16 con Loda, avanzando poi con Dumancic a muro. Bovari chiama il time out. La pausa non sortisce effetti, poiché Dumancic replica ancora con il fondamentale di rete. Carcasses riprende le redini della situazione con due punti consecutivi, che rimettono in mano il gioco a Lele e i suoi compagni sul 18-19. Il finale di gara è quanto mai concitato con le due squadre, che si contendono la vittoria punto a punto. Quando per la seconda volta consecutiva Moretto si supera a muro, Bovari fermi il tempo sul 24-23. Zanetti. La pausa rimbia l'epilogo, che arriva però ai vantaggi, con Loda, che mette a terra la palla del 27-25, regalando set e prima vittoria stagionale a Bergamo. Non bastano i 16 di Ortolani, gli 11 di Aveilcova e i 10 di Colas alle magliette nere, affossate dai 28 punti di una stratosferica lanier e 13 segnature anche per Loda. Bartoccini, fortinfissi, è chiamata, per l'ennesima volta ora, a rialzare la testa e tornare a macinare punti per allontanare l'ultima posizione. L'occasione può arrivare già mercoledì, quando alle 20.30 si torna al Palabartono per sfidare un Etty Work Busto Arsizio, altro scontro diretto focale con le due squadre separate da tre soli punti.